Un pomeriggio all'insegna della cultura accompagnata da buona musica. Questo è l'evento del 26 marzo al Parco Storico Sigelgaeta, che ha unito una visita guidata alla riscoperta dei reperti archeologici nel museo e una sezione di jazz del gruppo musicale composto da medici, ingegneri e agenti di commercio. Il tutto si è concluso con auguri pasquali tra soci e partecipanti all'evento.